Grazie a tutti. I concorrenti Pollarolo e Pozzoni, Suzuki, Swift, Booster Jet che con il numero 188 affronta la sfida. Andrea Pollarolo e Alessandra Pozzoni concorrono con i colori della Novara Corsa. Perché hai questo sorriso? Perché sono contento di partire. Oh bravo, ma avete i numeri invertiti, ho sbaglio, Tiziani va al 189 o al 188, cosa è successo? Cuno in verifica ha deciso di cambiare di classe ma non è sbagliato. Come mai? Sei, non sei, cosa sei? R1, R1? R1 ma nel l'elenco di partenza è R1B ma in realtà è R1 quindi... Va bene insomma dei dettagli che lasciano il tempo che trovano, va bene, fa niente. Va bene uguale, va bene uguale. Pollarolo, Pozzoni. Con, guarda qui il disegno del Naviga che sgrida il pilota che quantomeno gli urla qualcosa. Toyotari, Geri... Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.